Le quattro stagioni di Vivaldi sono diventate uno spettacolo di sabbia per inaugurare Arezzo Classica, la rassegna dedicata alla grande musica sinfonica e da camera voluta dal comune di Arezzo assieme alla fondazione Guido d'Arezzo è realizzata in collaborazione con Camu. Il teatro Petrarca ha infatti ospitato Granelli di Musica, uno straordinario appuntamento all'insegna delle contaminazioni artistiche. Noi avremo qui stasera la possibilità di vedere le immagini di una delle più famose sand artist che è Giulia Rubenni in arte Ghibli che praticamente ci illustrerà visivamente quelle che già sono di per sé visive le famose quattro stagioni di Vivaldi. L'orchestra è affidata al maestro Luigi Piovano che noi abbiamo già avuto l'onore di ascoltare l'anno scorso con gli archi di Santa Cecilia e la solista è grazie a Raimondi e quindi avremo appunto questa opportunità di vedere appunto le quattro stagioni eseguite da questi splendidi solisti accompagnati dalla Camerata Strumentale di Prato che mi ricordo, che vorrei ricordare fu fondata da Muti. La presenza di Ghibli arricchisce quello che poi è lo scopo della scrittura probabilmente vivaldiana che è quella di far immaginare all'ascoltatore alcune immagini di Venezia certamente, quindi dei venti, della bora, scene campestri, poi la forza della natura, l'impeto, la forza irruente della natura che ogni tanto ci ricorda che è più forte di noi. Grazie.